in realtà 3 uno ferma lo streaming l'altro fai partire lo streaming e il terzo è sei proprio sicuro di voler far partire lo streaming carino tu dici che evita che tu faccia partire gli streamer a casaccio allora il gioco di oggi è un gioco che io ho provato in uno delle varie giri di demo di steam voi non l'avete visto questo l'ho provato per i cavolacci miei e mi ha convinto abbastanza di dire va bene lo faccio ve lo faccio vedere io sono un vero ribelle dentro non prego mai f5 tanto si refrescia da solo questa è una tua scelta io rispetto le religioni di tutti allora è un dovessi spiegarlo io vi direi che è un simulatore roguelike di scalata è un gioco strano ve lo dico subito ve lo dico subito un gioco strano si chiama unsurmountable e la trama è dobbiamo arrivare scalare arrivare in cima alla montagna e tornare a casa possibilmente senza morire in questa attività ok allora steam ci dice di insurmountable confronta terreni differenti come un solitario montagnino e resisti agli infiniti pericoli dell'arrampicata molte decisioni difficili ti attendono in un ambiente pericoloso fatti strada su e giù dalla montagna superando altezze insurmountabili è stato sviluppato dai Byte Rockers Games ha 203 recensioni la cui media è very positive ne parlano anche bene quindi non sono l'unico che ha detto che sia un gioco carino 203 recensioni tra l'altro un numero incredibile per un gioco come questo qua prima di questo gioco i Byte Rockers Games hanno fatto Vrog che è chiaramente un gioco per la realtà virtuale su una rana saltelli in una pozzanghera come rana vabbè ognuno fa delle cose nel suo passato delle quali magari non è orgoglioso oppure è molto bello costa su steam 16,79 euro e basta non c'è l'italiano ve lo dico subito ed è un roguelike questa cosa mi ha incuriosito l'ho provato e ho detto perché io provo le demo e poi mi chiedo ne vorrei di più? cioè vorrei la risposta in questo caso è stata sì oggettivamente lo vorrei riprovare con più calma e quindi vale la pena farvelo vedere secondo me eh quelle New Zealand story eh non so di cosa parla fa lo stesso però adesso vediamo invece Insurmountable ho cliccato Play Now con un concetto un po' così di Now adesso parte vedo che OBS l'ha visto e quindi si va in montagna al fresco a morire congelati eccoci qua chissà se io eh no c'è la musica la sento ecco ah il pulcino di New Zealand story ok benvenuti davanti alla montagna che dobbiamo sulla quale dobbiamo arrampicarci facciamo New Game e ci siamo adesso si spiegherà come si gioca io ne ho una vaga idea ma l'ho provato sei mesi fa la demo quindi non mi ricordo niente e cicla ma scusa tanto caruccio di uno streamer calabrese va bene allora innanzitutto scegliamo il nostro montagnino poi è un avventuriero uno scienziato o un giornalista allora l'avventuriero riduce il tempo il costo in tempo e la peria di temperatura che il reduce time cost and additional body temperature gain when moving va bene il terreno costa meno 35% di tempo sempre e aggiungi 2 alla temperatura del corpo per ogni ora in cui ti muovi e dura per 3 ore lo sprint ok la tenda mi permette di riposarmi i guanti da scalata mi danno meno 10% di costo di energia in tutti i terreni e il cibo la scatoletta di cibo mi da 33% più 33% di energia ok poi avevo lo scienziato che ha più 150% di camera distance quindi vedo più terreni in avanti può fare analisi quindi spende 4 di tempo guadagnare 180 punti di esperienza tenda al bastone per l'arrampicata meno 15% al tempo nei terreni piatti meno 15% al tempo quando ti arrampichi con uno di altezza di differenza quindi dove ti serve il bastone non ti arrampichi a manine ho provato ad aggiornare la pagina mi dice sempre Aiza come categoria è curioso prova adesso no no ti assicuro che l'ho aggiornato Enigmista ho controllato due volte l'ho aggiornato provate adesso vabbè vabbè ha aggiornato adesso va bene così e poi avevo il giornalista che cazzo ci fa il giornalista in cima alla montagna lo sa solo lui ignora la durata per 6 ore ignora il tempo atmosferico e gli effetti del terreno ha i guardi di pelliccia guarda è più cero cibo di temperatura sempre praticamente quando si muove e quando si riposa negli eventi lascia la piccozza quella di Lara Croft che lo aiutano a scalare altezze più alte di uno cioè dove non useresti il bastone ha i stivali pesanti che risumono l'energia sulla pietra e poi ha il tè caldo quindi la 33 di body temperature allora prendiamo l'avventuriero ti sei ti sei tuffato nelle profanità dell'oceano alla ricerca di tesori perduti hai cercato culture estinte nelle parti più profonde delle foreste pluviali e hai scoperto antiche rovine in deserti senza fine nessuna avventura è mai stata troppo grande per te e nulla ti ha mai fermato ora c'è una nuova sfida davanti a te un'isola remota da tempo nascosta dietro una colta di nebbia una montagna una catena montuosa che nessuno ha mai visto e dei picchi che si stagliano verso il paradiso che aspettano di essere scalati questa è roba che sono i sogni dell'avventuriero la tua chance di mettere il tuo nome nei libri di storia ok normale puoi farci arrivare in cima perfetto difficile ma fattibile dice attenzione questa scelta non può essere cambiata per tutta la run sei sicuro sì quale montagna vogliamo scalare la prima perché non abbiamo mai fatto niente e poi in ogni montagna abbiamo tre strade diverse la prima che fenomeni strani orari più 20% di esperienza negli eventi e si è più difficile respirare perché l'aria è più rarefatta questo qua ha dei terreni più solidi e abbassano le cose di energia e tempo sulla pietra però ci sono degli effetti di tempi atmosferici molto intensi ghiaccio stabile il ghiaccio è migliore è più stabile e quindi costa meno passare sul ghiaccio e c'è la bufera che ci congela scegliamo la prima io direi che bisogna per le prime ok quando arrivi alla base della montagna guardando verso il picco senti che il senso di avventura ti attende che l'avventura ti attende l'isola è circolata dal mistero perché non è mai stata trovata in una mappa in tutti questi anni sono le voci di un gruppo di sconosciuti abitanti vere e chi sono le persone che possono vivere qui per quanto ti piacerebbe saperlo il tuo desiderio più bruciante è essere il primo a scalare la sommità e per questo che sei qui a rischiare la tua vita mi ha fatto 321 punti di esperienza all'inizio così punto e con lì è un'avventura grafica che volevo fare dopo quella che stiamo giocando si chiama toku se la cerchi su Steam la trovi avevamo provato la demo anche di quella se non mi ricordo male c'era piaciuta c'ha full metal mic ben arrivato vabbè ce l'ho scienziato non serve leggere il resto pensavo se l'andesimo acronimo no io non uso acronimi li odio gli acronimi perché non capisco mai di cosa cavolo si sta parlando allora benvenuti a non dirmi che ok perfetto ho trovato i comandi scusatevi allora il nostro scopo è arrivare lassù ok e siamo qua giù noi come vedete la mappa è fatta esagonale come potete notare tra l'altro terreno terreno di neve va bene ghiaccio poi abbiamo vari tipi di venti che ci sono in giro questi ve li faccio vedere dopo che sono facili da vedere abbiamo la salute che è la barretta qua sotto qua su io copro soltanto le opzioni quindi non vi preoccupate non vedete niente non c'è niente sotto di me la manida design cosa intendi l'energia va bene la salute se finisce crepo l'energia ci serve per andare avanti più è ripida il dislivello tra un esagono e l'altro più ci costa sanità perché è stressante arrampicarsi ossigeno temperatura del corpo va bene ed esperienza perfetto poi quando una stat diversa dalla salute raggiunge 0 il tuo status è critico puoi vedere se il patte rosso raggiungi lo status critico prima di arrivare in fondo perfetto se continui ad arrampicarti in quelle condizioni avrai eventi critici e soccacchiamari perfetto quando raggiungi un certo livello di esperienza livelli va bene puoi scegliere le varie skill va bene le skill danno una lista va bene il tempo atmosferico che vedete qua in basso a sinistra è soleggiato normale può esserci la buffa la pioggia la neve il vento quindi col vento è più difficile arrampicarsi ci sono degli eventi perfetto fai attenzione quello del tempo passa di un evento per guadagnare le stat perfetto puoi dormire se hai la tenda se non hai la tenda ti fotti un po' perfetto ok perfetto grazie arrivederci allora dicevo noi siamo qua il nostro scopo è cercare di arrivare fin là nella maniera più sensata possibile perché se io vado dritto vedete che ci sono dei grossi dislivelli quindi la mia idea è quella di dire ok incominciamo ad andare lungo questo bordo ah questo è impassabile quindi se vado di qua poi devo scendere di qua e salire di là se passo dall'altro lato è peggio decisamente peggio quindi passiamo di qua va bene ok e il nostro valoroso Mino comincia a percorrere il terreno e a farci la sua scalata in 6 l'ho giocato in live l'ho fatto tutti in live click ce l'ho in wish list ok adesso vorrei capire dove diavolo dobbiamo andare però perché di qua è troppo ripido qui dobbiamo chiaramente andare in là qua mi sembra che ci sia un passaggio però forse è meglio salire da questo lato uh come si butta giù da lì e se vado in qua e poi vado in qua ecco una cosa interessante che ciao Arsuna una cosa Brian si l'avevo giocato quando ero uscito ma mia mamma è vecchissimo full metal mic una cosa interessante che è una una scelta curiosa io non posso spostare posso girare la telecamera posso zoomare e di questo era quel 150% di zoom di cui parlava lo scienziato probabilmente che posso zoomare molto di più ma non posso muovermi da sopra il mio personaggio perché io là non vedo cioè posso dedurre come è fatta tutta quella zona lì ma poi finché non ci arrivo non è così semplice ok anche perché gran parte delle cose magari vengono disegnate esagonalmente quando ci arrivo lassù d'altr'altro avete un primo evento di un qualche tipo si arrampica in giù e qua mi sa che dobbiamo salire dritti per dritti ok però siamo ancora bassi quindi però è tutto bene allora adesso dobbiamo decidere qua giù c'è qualcosa vedete c'è un qualche tipo di evento anche qua dietro ci sono degli eventi ma andarli a prendere è un suicidio perché spediamo un sacco di energie questo qua su d'altro canto però maledizione io mi sa che devo passare da qua su e se io vado qua poi scendere divento un incubo quindi in realtà probabilmente mi devo scendere fin sotto di qua e passare facendo questo giro di qua è un gioco strano è questo qua io ve lo dico è un gioco strano perché a questo punto io posso arrivare qua e fare il giro qua sotto dai andiamo a vedere questo come funziona e a turno nel senso che il tempo non passa finché io non mi muovo sì cucciolo d'orso sbirici dentro una caverna oscura nella facciata arciosa senti un odore molto forte di morte e putrefazione sul retro della caverna vedi un qualcosa di enorme probabilmente una carcassa di un animale mentre fai per andartene senti un mugolio ti avventuri all'interno della bocca della caverna dove scopri un cucciolo d'orso che ti guarda con occhi terrificati aiuto il cucciolo d'orso continuo il mio viaggio spendo una virgola due ore o un'ora e mezza non saprei dirvi quanto spendo ma spendo del tempo a fare questa cosa aiutiamo cucciolo d'orso dai no non è un gioco relax di esplorazione aiutini adesso vedrai dagli tempo un momento stendi una mano verso l'orso si avvicina ti annusa le dita quando fai per accarezzarlo ti morde ritrai la mano il cucciolo scappa e torna nella caverna spari nell'oscurità la tua mano sanguina il morso non è molto profondo ma è doloroso quindi perdiamo 4.4 di health che vediamo qua lampeggiare perché ci verrà tolta la nostra serenità aumenta di 2.1 perché abbiamo fatto una cosa bella anche se non è andata bene e guadagniamo 301 punti di esperienza e poi facciamo il primo livello allora scegli la tua specializzazione terreno piatto specializzato nel muoversi sul terreno piatto riduce il costo di energia sui terreni ti permette di esplorare meglio la montagna oppure abbiamo esperto di consumabili quando usi un consumabile ottieni anche della sanità e dipende se trovi consumabili specializzato nel terreno pericoloso quando soffri un evento di un terreno pericoloso guarda dell'esperienza ok ti vorrei di usare i terreni pericolosi a tuo vantaggio direi terreno piatto grazie yes ok abbiamo preso light step ci riduce il costo di 0,5 su tutti i terreni fantastico poi qua abbiamo ancora anche una caverna volendo che non è neanche terribile andarci quindi facciamo ancora questo roguelike non so se esiste una forma di avanzamento tra una rana e l'altra entri in una caverna e è asciutta e riparato dal vento ok queste caverne qua sono posti dove ci si può riposare ma è un po' presto per riposarsi quindi intanto l'abbiamo scoperto allora io a questo punto vorrei far così perché mi sembra che la scalata prosegue in quella direzione non in questa per le prossime tre ore ci muoviamo più facilmente vai qua abbiamo l'ora sono 17.20 ok adesso andiamo qua e poi lì inizia la scalata delle proprie qua siamo ancora alle pendici del mondo è ancora tranquillo incontro una capra di montagna che mangia delle erbette la caccio mi avvicino in maniera amichevole gli do del cibo non ci penso nemmeno me ne vado una capra non vedo cosa potrebbe darmi se mi avvicino in maniera amichevole se la caccio magari le erbette sono erbette utili la caccio scappa lasciando dietro le erbe ottengo un'erba della luna che mi da della sanità ma mi fa perdere uno di salute e dell'esperienza perfetto bellissimo tac tac nel frattempo è scesa la notte allora fai così andiamo fin qua però stiamo consumando ancora poca energia qua c'è qualcosa vogliamo rischiare andarla a prendere vedo una cassa vediamo cos'è cominciamo a capire cosa ci serve e cosa non ci serve un sottile filo di fumo si alza nel cielo davanti a te giri un angolo e scopri un accampamento le fiamme già accese che lambiscono i lati dei barattoli messi attorno ok se raccolgo della neve mi fa perdere 18.1 di temperatura se lo pesto chissà la temperatura però sta bene possiamo spenderne un po' le tue dita sono ghiacciate ma è raccolta abbastanza neve da spegnere le fiamme dopo aver ricercato l'aria per essere sicuro che il proprietario non sia vicino o caduto in un crepaccio prendi i barattoli e continui perfetto abbiamo preso un barattolo il barattolo è bello allora light step 2 costo di energia molto ridotto in tutti i terreni open mind aumenta la sanità che guadagniamo negli eventi e il costo di energia ridotto sulla pietra grazie light step 2 pam abbiamo un meno 1 di costo di energia su tutti i terreni perfetto poi allora siamo arrivati qua qua vedo una grotta nella quale sarà possibile poi dormire qua vedo altri 2 20 e incominciamo ad andare la temperatura pian piano scende sono le 10 di sera viene attaccato dal nulla da un grosso wildcat ti morde il braccio fino a che tu possi spaventarlo sullo sfondo vedi la capra che hai incontrato prima e sembra che ti stia irridendo ma porca miseria ok consumabili riduce il costo sui terreni per arrampicarsi si grazie perché perché adesso devo capire come arrivare qua su io questo è un dritto per dritto però non è che ho tante alternative siamo in questa specie di gola quindi usiamo subito l'expert climber grazie e andiamo non lo so ancora Macrage l'ho lanciato adesso per la prima volta è lo stesso elementi miei per capirlo possiamo magari scoprirlo e intanto troviamo un container di metallo coperto dalla ruggine forse gli occupanti ci mettevano qualcosa cerco lo cerco tantissimo lo cerco velocemente e continuo il mio viaggio tantissimo mi occupa troppo freddo qui diamogli un'occhiata veloce trovi delle provviste e te le metti in saccoccia perfetto una bottiglia d'ossigeno buono che dopo servirà molto allora io sono sicuro eccolo qua qui c'è una caverna quindi possiamo riposarci forse nella caverna perfetto perfetto entro la caverna e si è asciutta e riparata dal vento noti un forte odore seguiamo l'odore non trovi niente tra le ossa e pellicce un po' di ossa e un po' di pellicce torno all'ingresso della caverna dormiamo dormiamo proviamo a vedere cosa succede caverna pacifica non c'è bisogno della tenda dormi un pochino o dormi a lungo 6 ore di tempo quindi mi porta alle 8 del mattino perfetto mi dà un po' di temperatura e mi dà dell'energia fantastico ecco ecco allora noi possiamo salire da questo lato di qua di qua però è ripido ripido o possiamo salire da questo lato di qua che ci fa tornare leggermente indietro passare sotto con poca dislivello e il dislivello poi diventa più alto da questo lato di qua oppure facciamo il giro super lungo però qua c'è il terreno pericoloso andiamo a destra vediamo cosa succede nel caso è colpa mia esatto ok dei gradini sono stati scavati nella roccia portati a una specie di piedistallo un qualche tipo di sito religioso o santuario non sei una persona particolarmente spirituale ma in qualche modo questo posto sembra sacro poi c'è la tua immaginazione ma preghi a questo santuario per della salute grazie mi dà più 2.6 di salute oppure mi dà l'energia salute grazie ok qua non abbiamo grandi alternative proprio possiamo solo andare su dritti per dritti questa ci costerà della gran fatica in computa con la capra esatto strano vero come gioco è uno strategico roguelike diverso dal solito vicino all'accampamento ci sono alcune cose piene di te puoi dedicare del tempo a cercare le tende sette ore mi chiede sette ore sono tante però è anche vero che c'è la tempesta questo ci permetterebbe di fare di fare di far superare di far passare dal brutto tempo ci spariamo la notte dai proviamo a vedere cosa succede due cose di te in sette ore ho trovato due a fare di te però il te mi permette di tirare sulla temperatura abbastanza deciso adesso il mio problema è che devo andare qua cos'è qua diventa notte mi segna dove diventa notte in questa casella diventa notte però io potrei fare questo che mi abbassa il costo di energia e mi alza la temperatura allora parti improvvisamente diventa notte esatto e usa questo c'era un buco che non ho visto c'era un buco c'era un buco Caverna di limestone, entra in un'enorme caverna, un sacco di stalattiti pendono dal soffitto, alcune di queste sono più lunghe del tuo braccio, gocce d'acqua cadono dal punto delle stalattiti sulle rocce e su delle pozze sottostanti, il rumore che ti rasserena, ti lascia calmo e rilassato, le informazioni di rocce devono avere svelate migliaia di anni, datando prima delle prime tracce delle persone in quest'isola, ti rende felice sapere che qualcosa abbiamo potuto sopravvivere così a lungo, anche tu sei qui per raggiungere qualcosa che supererà la tua vita, qualcosa di cui le persone parleranno negli anni a venire, ci dà della sanità, va bene, ci dà anche un livello, indebolisce l'effetto del stormy weather, riduce il tempo di tutti i terreni, spendi più tempo muovendoti, una vita che si attira ma ignori il terreno pericoloso, riduciamo l'effetto dello stormy weather siamo a 4896 metri di altezza, arrivati a 6000 metri iniziamo a perdere ossigeno vai dai allora da qua c'è un qualche tipo di passaggio che porta comunque qui, quindi qua ci dobbiamo andare per forza scopri una tenda intatta, non c'è nessuno in vista ma le braci sono ancora accese, il accampamento oppure no ma cercano, perdi 9 e mezzo di sanità che siamo al massimo di sanità una tenda con uno strano simbolo attira dal tuo sguardo la saccheggia e trovi di equipaggiamento utile, dei guanti da scalata davvero l'unico oggetto doppio scusatemi un oggetto avevo esatto allora io vorrei andare verso questa cosa qua abbiamo trovato una gola terribile da attraversare avrei dovuto andare qua e poi da qua lì, vabbè, fa lo stesso mi hanno trovato però la caverna dove riposarci è più facile che salti fuori che ho perso i guanti perché è successo qualcosa di brutto quindi ho un altro paio entri in una caverna e asciutta, viene un piccolo tunnel che entra nell'oscurità esploro il tunnel è troppo scuro e hai bisogno di una torcia entri nell'oscurità incontri delle macerie il passaggio è collassato poi devi tornare indietro, va bene allora, se dormo brevemente sono di nuovo quasi quassù però ho poca stamina se dormo a lungo recupero più stamina e arrivo alle nove e mezza se dormi pure continuo ad essere stormy weather io devo chiaramente andare in questa direzione qua perché di qua non posso andare la strada più breve sarebbe questa questi sono gli effetti più energia più 20% ok più pagiamento più meno di tratti no, se non si sommano sono cioè si sommano il totale il livello 2 è il totale non è 1 più 05 è 1 totale ho sbagliato ho sbagliato vai qua che poi ci aspetta una lunga arrampicata ed è un ottimo momento per usare questa roba qua ok un montagnino morto sul terreno sono due alpinisti morti non sono qui da tanto tempo riconosce il simbolo sui loro vestiti è la stessa della tenda che hai saccheggiato ma sono morti per colpa nostra perché non erano il tè che gli abbiamo rubato vabbè succede ma abbiamo fatto un livello allora evita critical interruption event aumenta la sanità guadagnata negli eventi riduce il costo di energia sulla pietra andiamo con la sanità oh no anyway esatto ok poi facciamo così e andiamo lì si spera consumando poca energia nel fare tutto questo tragitto incasinatissimo e per chi mi ha chiesto una rilassante passeggiata no le cose peggiorano moltissimo man mano che sa come nella montagna reale in realtà la situazione precipita velocissima man mano che sali una vecchia signora è davanti a una capanna che ci fa qua signora ha un sorriso senza denti amichevole ti fa il segno di sedersi con lei per ripristinare le tue forze le dai retta e recuperi calore o salute calore 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 ok adesso allora di qua c'è qualcosa ma uh la che là sotto c'è qualcosa però mi sembra impossibile arrivarci qua c'è qualcosa ma mi sembra che la montagna scatta di qua si fermi mentre tutto mi fa pensare che si vada su in là quindi qui c'è un terreno pericoloso quindi fin qua possiamo andare tranquilli cosa si fa da queste parti signora mangi i crediti che si fida dove entrano in casa siamo a 5.556 metri lo vedi in basso a sinistra quanti siamo? a 6.000 incomincia il calo dell'ossigeno allora chiaramente devo andare in questa direzione non in quell'altra perché arrivo qui e poi divento scemo a salire fin lassù c'è oddio no perché sarebbe qua il posto mmm non mi piace qui abbiamo due terreni pericolosi ma passare dall'altro lato è ancora meno probabile avevo 8.000 terreni pericolosi vediamo cosa succede sui terreni pericolosi ciao codino saluti tutti quelli che non ho salutato prima mentre stavo giocando ad Isaac ok siamo arrivati qui questo allunga e non allunga di poco maledizione non andrei a prendere quello a fare là sotto sinceramente scopri scopri resti di un alpinista la sua pelle grigia è fredda cerco attentamente il suo corpo gli do una occhiata veloce mi do 7.3 di sanità mentale vai trovi del tè ok adesso non abbiamo grandi problemi allora qua abbiamo sanità che mi toglie 1 di health che non è tanto 1 di health sinceramente va bene buono a sapersi e qua mi sa che inizia la parte dura quasi fa notte non vedo caverne di nessun genere attorno a noi anche questa cosa qua che mi piace molto che devi cercare delle cose cioè non è tutto evidente eccola là la caverna guardala là non è neanche una scalata impossibile e se la volessi fare così la notte arriva qui e usa totti di energia che non è neanche tantissimo vai eh ma c'è questa ci sono questi due pezzi che sono molto alti mentre il tuo sguardo si alza verso la roccia verticale viene catturato da un anello di ferro di quelli per la scalata inclina la testa sei sicuro che portano un piccolo spiazzo perché qualcuno avrebbe dovuto metterli per raggiungerlo allora questa è pesantissima da fare perché ci toglie 32 di energia che è un sacco però abbiamo da mangiare e volendo abbiamo a breve il posto da riposarci quindi proviamoci a metà strada guardi in giù una caduta a questa altezza potrebbe ucciderti in quel momento l'anello che tiene il tuo peso si sgancia estremamente afferri un crepaccio e ti afferri e ti stringe la roccia come un insetto con tutta la tua forza ti arrampichi fino a che non raggiungi la sommità e trovi una piccola nicchia nella roccia scosso scopri qualcosa lasciato lì da qualcuno che è venuto privo di te dell'equipaggiamento allora questo è bello perché le snowshoes mi piacciono direi che però è il momento di bere di mangiare del cibo in scatola e poi di ripartire i rami di un albero ci spugno sono coperti di ragnatele mentre ti avvicini noti alcuni ragni che spariscono in un buco nel terreno ti pieghi per ispezionare il buco c'è qualcosa nascosto lì dentro che simpatia dai vediamola ormai è tardi adesso chiuderemo anche la live ti passano i ragni sulle mani ma non ti fanno del male raggiungi una sacca di stoffa è vuota va bene vai mi sa che ci arriviamo molto tardi alla cosa però abbiamo una tenda possiamo dormire una volta fuori dalle caverne senza avere il problema di aver dormito all'addiaccio su una montagna a 5376 metri di altezza e in una caverna seguo l'odore senti un ruggito qualcosa ti morde la gamba scappi dalla caverna aia mi sa che devo riposarmi con la tenda mi sa che devo anche dormire a lungo vai durabilità della tenda a 3 di durabilità ma quindi ha 3 usi la tenda ok è un po' ripido questo lato secondo voi no non vale lo sbattone assolutamente allora io devo arrivare qua perché poi attivo l'abilità che mi fa risparmiare energie e vado in su senti un paio di pietre che ti ha rotto laggiù dalla montagna una di loro ti colpisce sul torso pam aia una cosa da evidenziare che non so se sia bella o brutta perché non c'è ancora giocato abbastanza per capirlo e che le scalate sono sempre molto non sono mai brevi cioè Isaac ti capita che di morire dopo due stanze e ricominci qui se non ce l'hai fatta lo sei molto avanti nella partita quindi attiviamo questo coso qua e andiamo su è un gioco particolare cosa ne pensate cosa vi sembra mi devo fare amicizia con la capra è strano è diverso dal solito secondo me che è una cosa che appretto sempre io c'è un grosso crepaccio che blocca la tua strada c'è un ponte di neve che puoi usare per attraversare ma non sei sicuro sia stabile con questo perdo 22 di temperatura e 5 ore rotti con questo non si sa gira attorno lassù ho la prossima caverna intanto si avvicina la meta va bene questo era insurmountable l'avevo trovato carino anche io ero morto io ero morto la prima parita con la demo ero morto quasi in vetta non so se c'è ancora la demo però ve lo dico subito perché adesso mi si apre steam e ve lo dico no non c'è più la demo non potete più provarlo però vi dico a me io lo trovate interessante se vi piacciono le meccaniche che avete visto considerate che è più difficile di quello che avete visto perché adesso inizia il problema la difficoltà inizia adesso ok questo è il pezzo per capire come arrivi a quando inizia la difficoltà secondo me da qua in poi cominciano i problemi però è sicuramente ben fatto poi mi rendo conto non sia per tutti va bene io spero che vi sia piaciuto questo gioco che vi ho fatto vedere vi sia piaciuto passare un po' del pomeriggio con me vi auguro un buon weekend noi ci vediamo martedì con bear with me grazie a tutti buon weekend ciao ciao